PEGI 16 La piramide lunare si desta al richiamo delle viatà, manifesta i nostri rimorsi. Nel luogo in cui scacciamo gli incubi, un nuovo terrore emerge dal suo letale. Gli incubi non ci faranno indietreggiare, ci ergeremo contro il nemico e affronteremo le nostre peggiori paure a occhi aperti. Gli incubi convergono sulla tua posizione. Inizia la raccolta. Ora dovrai eliminare la paura. Ti guiderò meglio che possa. Questo è l'inizio della fine. Grazie a tutti.